Mi sono buttato in mente a tutti e ho fatto il casino, solo che poi è riuscito a scapparsene Avete visto il picchiaduro con gli dei? Qui c'è anche Gesù che si stacca dalla croce e comincia ad andare mazzato di croce a butta Infatti puoi fare il picchiaduro con gli dei ovviamente Tutti gli dei, anche per gli attuali Sì, ma come si chiama sto gioco? Fight of Gods Ma c'è Babbo Natale pure! Ma c'è Babbo Natale, ma perché? In Fight of Gods è Babbo Natale Sì Non c'è il coniglio di patto Babbo Natale è che... Sì, nel secondo video è Babbo Natale contro Gesù Non c'è Satana però Satana non è un dio Un angelo Ma c'è pure Mosella, c'è solo Gesù comunque Se c'è Pielo può sfruttare Sì, l'ha urto No, non l'ha urto Attendo ai mignoli Che scherzo Sto arrivando su meca supersupposto della giustizia incontrestata Mannaggia te Peppo Hai sbagliato, sbagliato il bacio Eh, devo farla, devo farla lasciare morire Silvia, no? Sì Ops, ti ho tirato la cosa sul muro per romperlo Se non mi onorara Rami e butto Peppo nella finestra Che c'è il troppo? Non so, però me la devo prendere con qualcuno Tu sei già abbastanza abbattuto Ah no, lui pure, eh? Renni non parla Che cazzo ammazzo, raga? E mince 16 anni? Renni è incazzata per Nami Tu sei incazzato perché fai cacare Gabri perché fa cacare con Rami Io vi giuro che non lo cacco mai più in tutto il bacio in cui prendo il nang Ma ancora lui No, non gli do più manco l'honor E non gli do più manco l'honor Arrivano all'inibitore top non Genkigo Humor Ma che se la spiose di sedge su qua si fa prescindere? Purtro se non ci sa più, praticamente No, 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 no No, no, no Ma tu andare per me sta zaccadona di qua Ma sono i miei E' in davanti Ma ti rompisco uno Posso cercare il carretto? Il carretto passava e buppino gridava carretti E' in davanti Per me E' in davanti Ma tuam E' in davanti e troppo dove cazzo sta andando perchè non mi sono riusciato già perché che è morto 2.0 si dice fortissima Silvia ti ha detto che sono scarso guarda adesso emulerò Silvia e che cazzo è quel Minium B? c'è Minium? ma io ti ne avevo contati c'è Minium che si sta affaccando la torre ha fatto grab oddio e l'ha lasciato vieni zirvi lasciatemi mi vengo lo stesso ma ancora se ah no è morto di Qtiii di Nivia? no di Sion lei aveva fatto la cosa dentro il muro e l'ha sfondato oggi una mia amica mi ha regalato Jinx dell'Odissea quindi sono ufficialmente una donna chi è questa tua amica? non lo saprei mai comunque di sicuro non è immaginaria non capisco perché gli altri sono felici e io no tu non sei finita non stai infattando di maialini che sono un cagnolino in secondo qua maialini è il contrario vabbè si hai capito beh anche se non ce l'avesse cambierò per l'attivante può in realtà ma mi stava pure rubato il rosso è venuto e tirato un acqua quando aveva stato tutta HP si ma che cazzo sta? ma questa qua è seria ma ma che sto guardando raga? non lo so ci ha fatto non l'ho visto madonna cioè si non si può raccontare una cosa del genere ti segna per la vita ma che cazzo è una clown fiesta bot? ma che sta succedendo? no ma quella Sorak sembra a bronzo tipo no non ho visto non ho visto proprio cosa ha fatto ma gioca da bronzo quella Sorak cioè non può essere uno che non è in serate volete vedere i miei minion? oh cazzo è livello 44 con 0 minion what the fuck aiuto grab a Sorak grab a Sorak a parte che penso che abbia visto pure bot Silvia ha ancora un minion 0 scusi ma ancora 0 minion allora è completamente inutile quella Sorak non ha la minima idea di quello che sta facendo non capisco come abbiamo fatto a trovarci ma c'ha world pre qua allora hanno un silver 2 un gold 1 e poi tutti unranked un gold 1 con 0% di vittoria ragazzi fino ad oggi minchia poi la screen prima che vinca sta partita la Sorak sta venendo top attento ancora da qui quella la Sorak mi cura manco a Pasqua poi c'ho la ultima il troppo morivo oh che cazzo è successo è morto Stan Lee c'è stato un flash fiesta botti in mezzo alle due torri che non ha idea tipo c'era 3 io l'ho un oro al fanculo tra l'altro gioca solo aria è già fuori Dairfall possiamo fare l'herald approfittando del fatto che un double buff e che forse non si avvicineranno a me porca troia non l'ho detto dicevi GABRI NON L'HO DETTO GABRIIIII arrivo top vieni verso qua vabbè ma in realtà che sono andato mit sui po' raga attendi che Vukong vi può uscire tipo da qua da un momento all'altro allora sono ventiquattro minuti che stanno giocando in due cosa vi fa pensare di cessare Orn da qua fino a qua senza che VUKONG GRASCIA anche top sono per fare la torre se un po' l'unica cosa che crashate qua sono le barre dei vostri HP che inderda ha visto il nick derfall 83 l'ha messo di lui il marchio ma perchè scusa che ho fatto di male ecco veloce veloce hai fatto da prendere eh non hai perso il tempo non hai perso il tempo mi ha messo tutti quanti in base quello parte 145 cazzare io rimango come un mango da aprire qui per te ahhh